La Guardia di Finanza nel quadro della vigilanza sul corretto impiego dei finanziamenti degli incentivi pubblici destinati alle persone fisiche e alle imprese, ha recentemente concluso un'azione ispettiva nei confronti di una società operante nel settore dell'impiantistica termoidraulica avente sede in Borgo San Dalmazzo. L'azienda aveva richiesto ed ottenuto la concessione di un finanziamento a tasso zero erogato con fondi della Comunità Europea e dello Stato per realizzare un impianto fotovoltaico destinato alle esigenze produttive. Le Fiamme Gialle però hanno accertato che la società, oltre all'impianto dichiarato, aveva realizzato ulteriori impianti fotovoltaici non ammessi ai finanziamenti comunitari. In tal modo la società ha ottenuto un finanziamento in misura maggiore di quanto spettante. L'importo del finanziamento percepito in maniera illecita monta a 360.000 euro. Il legale rappresentante della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cuneo per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nonché segnalato alla Procura regionale della Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale. Stanotte verso le tre una famiglia di origine nordafricana residente a Borgo San Dalmazzo in via Vettorio Veneto è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionatosi da una stufa a legna. Sono grevi due coniugi, 43 anni lui e 37 lei, trovate in stato di incoscienza, mentre versano in condizioni meno preoccupanti tre figlioletti, due bambini di 6 e 5 anni e una bimba di due. Sul posto sono intervenute due medicalizzate e un'ambulanza base che hanno provveduto a trasportare 5 intossicati all'ospedale di Cuneo. La donna è stata invece trasferita al CTO di Torino per essere sottoposta al trattamento in camera iperbarica. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco, questi ultimi sono intervenuti per rilevare la quantità di monossido e mettere in sicurezza i locali dell'abitazione. Incidente questa mattina verso le 7.30 alla rotonda tra corso Alcide dei Gasperi e corso Antonio Gramsci a Cuneo. Una Fiat Panda, probabilmente a causa della pioggia, non è riuscita a sterzare finendo dritta proprio sopra la rotonda. Nessun altro mezzo è stato coinvolto così come la persona alla guida della vettura non ha riportato ferite. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere l'auto. Altri incidenti e piccoli tamponamenti dovuti alla pioggia vengono segnalati in varie zone della provincia, il più grave a Fossano dove alcune persone sono rimaste lievemente ferite. Il Borgo Moretta ha vinto il Palio degli Asini 2013. Per il secondo anno consecutivo vince il Borgo Verde e Giallo con l'asino numero 17 Federica, conquistando il prezioso drappo quest'anno dipinto da Paolo Galetto. Al secondo posto l'asino numero 7 del Borgo Patene Tesor, terzo il Borgo Santa Barbara con il numero 3 in una competizione tutta tra asine. Il premio è stato consegnato a fine gara dal sindaco di Alba Maurizio Marello, dal presidente della giostra delle Cento Torri Alberto Cirio, anche assessore regionale del turismo, e dal presidente dell'ente fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba Antonio De Giacomi, al presidente del Borgo Moretta Bruno Silvestro. Il premio per la miglior sfilata e rappresentazione storica è stato conquistato dal Borgo di San Lorenzo con la messa in scena della festa per Bonifacio I al suo rientro ad Alba con la corona dei re di Tessaglia affidata alla cattedrale della città. Il premio è stato consegnato alla presidente del Borgo Ines Manissero. Differenze sociali, segreti inconfessabili, amori contrastati, lotte di classe tra padroni e operai omicidi. E lo scenario dell'ultima serie targata Mediaset è presentata in anteprima al Roma Fiction Fest. Sarà il Piemonte ad ospitare le riprese dei Segreti dei Borgolarici. I protagonisti Giulio Berruti e Serena Jansiti si divideranno tra il castello reale di Racconigi e la certosa di Collegno, sotto la tenta regia di Alessandro Capone. L'amore impossibile è il tema portante della storia tra una figlia di operai e il primo genito di un ricco industriale del ramo tessile. A margine, ovviamente, altre intrighi con un chimico che inventa una miscela rivoluzionaria ma muore misteriosamente. Location quindi di grande effetto per la nuova serie, prossimamente su Canale 5. Tra i prof pareggia il Cuneo, 1-1 al Paschiero contro il Real Vicenza. Ennesima sconfitta per il Bra 3-1 a Monza. In classifica Cuneo in testa con 11 punti, Bra desolatamente in coda con un solo punto conquistato. Nel campionato di Serie D l'Albese pareggia 2-2 a Caronno, nonostante la doppietta del debutante Marjanovic. Cade pesantemente in casa la Prodronero contro la Lavagnese. In classifica Cuneo si appagliate a quota 6 punti. In eccellenza torna la vittoria la Cheraschese, in presa del Busca che batte il Tortona Villalvernia, perde il Fossano contro il Colline Alfieri Don Bosco. Sorride l'Olmo, niente miracolo invece per il Bene Narzole che esce sconfitto da Acqui. Stessa sorte per il Saluzzo che va in vantaggio ma si fa rimontare a Pinerolo. In classifica Bene Narzole prima delle Cunesi a quota 11 punti, segue il gruppetto Cheraschese, Olmo e Busca a quota 10, Saluzzo tredicesimo a quota 8, Fossano terzultimo a quota 3. Grazie a tutti.